in diretta dall'auditorium merula roreto di cherasco on stage il live streaming che porta la musica dal vivo ovunque tu sia siete pronti? stiamo per cominciare buon pomeriggio e benvenuti benvenuti a roreto di cherasco sul palco di meron stage per un altro appuntamento con i nostri concerti del sabato pomeriggio alle 16.30 come tutti i sabati oggi per voi abbiamo qualcosa di davvero speciale per tutti gli amanti del grunge con un repertorio che spazia tra tutti i grandi di questo genere signori e signori da Torino su questo palco abbiamo The Stardog Champions Grazie a tutti Demons are near Townsend We're going And we're going I feel so alone To land up my victim By the demons Ah 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 Guns Fly They're gone I'm the red guy And I'm killed Forseal Detention I feel I feel so alone To land up my victim By the demons Ah 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 Oh, a dare That 3x Came true Can't lie With that gold And the rest guy I've been so alone Can't end up a big goodbye Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 She said Yes, of course there is You've been alive She said What I deserve to be You start the pressure And if so, if so Oh, I'm strong Oh, I'm strong And I Oh, I've been alive Yeah, I Oh, ho, ho, ha te la la, hey, hey Oh, ho, ho, ha te la la, hey, hey I'll see the light Oh come on, oh yeah 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 Oh come on, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Grazie a tutti Grazie a tutti Venire anche qua in teatro Come coloro che sono qua in questo momento Un bel applauso ancora per la band ragazzi E ne approfitto anche per salutare Chi è collegato in questo momento in streaming Quindi Mickey, Bob, Jacopo e Danilo Che in questo momento vi fanno i complimenti Sulla chat dello streaming Senz'altro indugio Ancora una volta Signore e signori A voi Stardog Champions Grazie a tutti Grazie a tutti Ciao Grazie a tutti Ciao 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 Senz'altro indugio vi lascio ancora una volta al concerto Vi ricordo che il negozio è ancora aperto fino alle 19.30 E potete trovare i prodotti Tra gli altri anche dei nostri sponsor Echo, Yamaha, Pearl, RCF e Proil Che ringraziamo E ringraziamo il pubblico in sala Quello a casa in streaming e soprattutto la band Signore e signori, Stardog Champions Quando il mondo iniziò a parlare di Seattle A Seattle era già tutto finito Prego Who are the man in a box? Who in him my ship? Won't you come back to save me? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti